Fin dall'infanzia, Marina sognava di sposarsi con successo e che tutto nella sua vita sarebbe andato a meraviglia. Era sempre stata una ragazza allegra e ottimista, e poi, crescendo, lo era anche da giovane donna. Un giorno, si innamorò di un giovane uomo affascinante. Era davvero affascinante, interessante e di bel aspetto. Le sembrava che lui fosse il suo vero principe azzurro. La loro era una relazione appassionata e movimentata. Oleg le regalava continuamente bellissime rose vivaci, cioccolatini e poi anche oggetti preziosi. Si impegnava davvero per lei e faceva di tutto per renderli felici. Ma il tempo passava, e per qualche motivo l'uomo non le faceva ancora la proposta di matrimonio. La madre di Marina iniziava a chiederle costantemente quando ci sarebbe stato il matrimonio, ma la ragazza non sapeva cosa rispondere. Se dipendesse da lei, sarebbe già sposata da tempo. Ma la realtà era che desiderava essere moglie, ma nessuno la chiedeva in sposa. Un giorno, la verità sulla relazione tra Marina e Oleg venne a galla. In realtà, tutto si rivelò piuttosto semplice. Anzi, si potrebbe dire banale. Lui era semplicemente sposato. Aveva una moglie bella, ma molto autoritaria. Sì, era ricca e di successo, ma lo opprimeva continuamente. In quella relazione, lui si sentiva prigioniero. Non poteva fare un passo né a destra né a sinistra. Era sempre controllato e non gli davano mai pace. Così aveva iniziato a cercare una ragazza dal carattere completamente diverso, per trovare un po' di pace interiore e sentirsi almeno un po' forte e libero. E fu così che incontrò la meravigliosa Marina. All'inizio, voleva subito confessarle tutto, dirle onestamente che era sposato e che si sarebbero frequentati solo se lei fosse stata d'accordo. Ma quando vide che Marina prendeva molto sul serio questo tipo di relazioni e che non tollerava rapporti con uomini sposati, decise di non rivelarle nulla per il momento. Pensava che sarebbe stata solo una storia leggera e tranquilla. Non aveva intenzione di innamorarsi così profondamente di Marina, voleva solo rilassarsi un po'. Ma col passare del tempo, la relazione continuava a svilupparsi, evolvendosi verso qualcosa di serio e autentico. Ora Oleg era veramente confuso. Per la prima volta nella sua vita non sapeva cosa fare. E non aveva nessuno con cui confrontarsi su una questione così delicata. Ci fu anche un momento in cui Oleg iniziò a pensare seriamente e costantemente di lasciare la sua attuale moglie e mettere fine a quella storia. Non avevano figli insieme, quindi non c'era nulla da dividere. Ma poi cominciarono a sorgere in lui dei dubbi. Come avrebbe vissuto in futuro? Era impiegato nella società di sua moglie e aveva ottenuto quel buon posto proprio grazie a lei. Lui guadagnava bene e non poteva permettersi di perdere tutto questo. E nel frattempo Marina aspettava che la loro relazione facesse un passo avanti. Desiderava chiarezza e sognava di avere anche lei una famiglia. Oleg si trovava in mezzo a un dilemma e non sapeva come comportarsi. Finché un giorno non riuscì più a mentire. Iniziò a provare con passione per Marina, per le sue speranze e i suoi desideri. Così le raccontò tutta la verità, esattamente com'era. «Mia amata Marina, ti amo e so che desideri moltissimo sposarti e avere una vita felice. Ma per alcuni motivi non posso darti tutto ciò che desideri in questo momento», disse improvvisamente il giovane. «Perché dici così? Noi abbiamo amore e una relazione seria. Sai bene che anch'io ti amo tanto e voglio da te tanti figli. Qual è il problema?», chiese preoccupata la ragazza. «Avrei dovuto confessarti tutto molto tempo fa. Il fatto è che sono sposato e dipendo da mia moglie. Non posso lasciarla adesso. È una donna forte e autoritaria», spiegò onestamente il giovane, così com'era. Dopo queste parole, Marina quasi svenne. Certo, si aspettava di sentire qualcosa di simile dal suo amato, ma non che fosse già sposato con un'altra. Subito iniziò a piangere amaramente. Capì che tutti i suoi sogni più profondi si erano infranti in un istante. Ora sapeva che non ci sarebbe stato alcun futuro felice con quest'uomo. Le ragioni erano oggettive. Si sentiva molto imbarazzata e ferita dal fatto che aveva vissuto la sua giovinezza spensierata con un uomo non libero. In realtà, non aveva mai compreso e aveva sempre condannato le donne che passano il loro tempo con uomini sposati. E ora si trovava lei stessa in quella terribile situazione. Non voleva dire più nulla a Oleg, poiché capiva che qualsiasi parola in futuro sarebbe stata inutile e superflua. Tornò a casa e raccontò tutto a sua madre. Naturalmente, anche lei rimase scioccata, poiché conosceva Oleg e non avrebbe mai potuto immaginare che fosse sposato. C'era un'altra cosa. Durante quell'anno, mentre il giovane sposato frequentava Marina, sua moglie viaggiava spesso. Ci fu un periodo in cui trascorse persino diversi mesi in un altro paese. Aveva un progetto molto importante, a cui dedicava tempo, energia e risorse. Proprio per questo motivo, Oleg passava molto tempo con Marina e la sua famiglia. Quando la moglie tornava, Oleg diceva a Marina che doveva partire per una breve trasferta di lavoro. Così continuava la menzogna, con successo, e tutto sembrava andare bene. Ma poi anche sua moglie cominciò a notare che il suo caro marito, che da tempo considerava come sua proprietà, non si comportava più in modo corretto e adeguato. Lui cercava costantemente di uscire la sera per andare da Marina. Questo sembrava sospetto. E la moglie iniziò a manifestargli il suo malcontento. Le circostanze si svilupparono in modo tale che Oleg dovette confessare tutto a Marina. Se non fosse stato per la forte pressione da parte della moglie, avrebbe potuto restare ancora un po' di tempo con Marina senza fare scelte definitive. Ma va detto che ora Marina era diventata una ragazza completamente libera. Oleg cercò ancora per un po' di rincorrerla, di convincerla ad aspettare, promettendole che si sarebbe sicuramente separato non appena fosse stato possibile. E così via. Ma Marina non voleva più vedere questo ingannatore crudele e orribile. Dopo questa spiacevole rottura, la giovane si immerse nel lavoro. Non sognava più un uomo giovane e bello, né un amore vero. Voleva semplicemente stare da sola. E se mai avesse trovato un nuovo amore, sarebbe stato qualcuno di semplice. E non si sarebbe innamorata così tanto. Con questo stato d'animo e questi pensieri. Incontrò un uomo semplice. Lavorava come operaio edile, era calmo e viveva con sua madre. Insomma, aveva una vita abbastanza tranquilla e stabile. Non mirava a nulla di straordinario. E la cosa più importante per Marina era che Michele voleva sposarsi. Sognava di vivere con la sua futura moglie nella sua casa. E che tutto sarebbe andato a meraviglia. Michele notò subito Marina. Lo colpì per la sua bellezza e per la sua calma. In realtà, quella calma apparente nascondeva una certa indifferenza verso tutto ciò che accadeva intorno a lei in quel momento. Cercava semplicemente di fare tutto il possibile per dimenticare il suo primo amore e lasciare alle spalle la vecchia relazione. Fisicamente si era lasciata con Oled, ma continuava a pensare a lui e a soffrire. Quando incontrò Michele, iniziò a pensare che fosse una grande opportunità per dimenticare e costruire la felicità familiare, per quanto possibile. In passato, le donne belle e attraenti non prestavano attenzione a Michele. O meglio, lo conoscevano, ma quando scoprivano che viveva con sua madre, se ne andavano velocemente. Trovavano scuse e partivano. Ma a Marina sembrava non importare affatto il fatto che vivesse con sua madre. La madre di Michele, tuttavia, non era di carattere facile. Era una donna forte e orgogliosa, amante dell'ordine, che comandava suo figlio. Naturalmente, voleva che suo figlio si sistemasse il prima possibile. Va detto che aveva iniziato a vivere con Michele solo nell'ultimo anno, per aiutarlo a trovare una donna. Di solito, viveva in città o viaggiava spesso. Era una donna attiva, anche se capiva che l'età iniziava a farsi sentire e che i problemi di salute cominciavano a manifestarsi. Tuttavia, queste erano le ultime cose a cui pensava. Al primo posto per lei c'era suo figlio e la sua futura vita personale. In realtà, Marina piacque a Natalia. Aveva sempre desiderato una nuora tranquilla, qualcuno su cui avrebbe potuto avere il controllo in futuro. Questo fu l'impressione che Marina fece sulla sua futura suocera. Quando Michele chiese a Marina di diventare sua moglie, lei non ci pensò molto a lungo. Praticamente accettò subito. Voleva semplicemente prendere una decisione e distrarsi il prima possibile. Inoltre, voleva finalmente dimostrare a Oleg che anche lei aveva il pieno diritto di costruirsi una vita propria. Aveva bisogno che Oleg smettesse di comparire nella sua vita, di fare allusioni o chiamarla. Doveva porre fine a tutto questo in modo definitivo e irrevocabile. Il matrimonio fu in realtà molto semplice. Non invitarono molti ospiti. Volevano solo stare in un piccolo cerchio e festeggiare con gli amici. E così fu. Va detto che subito dopo il matrimonio, Marina si trasferì a casa del suo nuovo marito. La suocera rimase a vivere con loro per un po' di tempo e poi partì per viaggiare. All'inizio della loro vita matrimoniale, le cose andavano più o meno bene. Vivevano in modo semplice, ma allo stesso tempo andavano d'accordo. Non c'erano litigi o questioni controverse. Cercavano di sostenersi a vicenda e di ascoltarsi. Ma poi Michele si rilassò un po'. Marina cercava di non dare troppo peso a certi dettagli nella loro vita familiare. Lavorava, aiutava suo marito e viveva la sua vita come tutte le persone della sua età. Solo che per il momento non avevano figli. Un giorno, la vita della ragazza cambiò radicalmente. Il fatto è che la suocera, come aveva già intuito in passato, si ammalò. Non voleva, e nemmeno poteva, vivere da sola per ragioni fisiche. Proprio per questo motivo si trasferì a casa del suo unico figlio e della nuora. Aveva bisogno di qualcuno vicino a lei. Natalia, per quanto possibile, era ancora autosufficiente. Ma temeva di rimanere senza qualcuno che la sorvegliasse. A Michele, sul lavoro, non furono più concessi straordinari. Questo significava che anche lo stipendio si ridusse significativamente. Di conseguenza, il denaro non bastava più. E ora anche la suocera era a loro carico. Marina non si aspettava una svolta così nella vita. Non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi in una situazione del genere. Sicuramente non pensava che, invece di godersi la felicità familiare e aspettare un bambino, avrebbe dovuto partire per cercare un lavoro. Il fatto è che nella piccola città in cui viveva, non c'era un lavoro decente e ben pagato. Questo significava che doveva andare da qualche parte e affrettarsi a cercare qualcosa. In quel periodo, Michele era diventato molto pigro. Non voleva sforzarsi o inventarsi qualcosa. Così, per mantenere la famiglia, Marina dovette prendere in mano la situazione. Le offrirono, del tutto per caso, un lavoro come cuoca. Tuttavia, doveva trasferirsi in un'altra città e lavorare con il metodo del turno alternato. La ragazza riflette per un po' se fosse giusto partire ora e dedicarsi completamente al lavoro. Ma non ci pensò troppo a lungo. Decise che in quel momento era la cosa giusta da fare. In futuro, tutto si sarebbe sistemato, avrebbe cambiato lavoro e forse anche professione. Marina si fissò un obiettivo, cercare di guadagnare bene. Voleva mettere da parte un cuscino di sicurezza, una somma di denaro su cui poter contare quando avrebbe pensato di avere un figlio. Decise di agire in questo modo. Tutti i soldi che guadagnava onestamente durante i turni li inviava a suo marito e alla suocera malata. Disse loro che una parte del denaro poteva essere usata per vivere e per le medicine, mentre l'altra parte dovevano risparmiarla. Marina non intendeva lavorare così a lungo, e in futuro avrebbe avuto bisogno di quelle somme. Aveva una certa fiducia in Michele e Natalia. Non pensava minimamente che avrebbero potuto fare di testa loro o spendere tutto lo stipendio per qualcosa di superfluo. Questa volta la ragazza dovette stare via per molto tempo. Il motivo era semplice, voleva guadagnare il più rapidamente possibile e il più possibile. Lavorava con grande impegno ed era molto apprezzata sul lavoro. Era così piena di energia vitale che molti la invidiavano. Si concentrava solo sul lavoro, dedicando tutte le sue forze fisiche e mentali. Alcune ragazze che lavoravano con Marina la invidiavano in una certa misura. Vedevano che era amata e lodata, ma non tutte erano capaci di lavorare così duramente e di essere così motivate. Così cercavano di metterle qualche ostacolo. Per esempio, vivevano tutte insieme in un dormitorio e condividevano tutto. Un giorno, invece dello shampoo, le ragazze versarono nel flacone di Marina una tintura fortemente colorante. Quando la ragazza si lavò i capelli, vide un risultato scioccante. I suoi capelli avevano assunto un colore terribilmente acceso e brillante, che non passava inosservato. Marina cercava sempre di curare il proprio aspetto, e questi cambiamenti imprevedibili non le fecero piacere. Pianse tutta la notte, non solo per la tintura, ma per la sua vita così confusa. Desiderava semplicemente una felicità femminile semplice, ma invece aveva ottenuto solo problemi. Nel frattempo, Michele, che prima scriveva e chiamava abbastanza spesso, dicendo le parole gentili, ora si comportava in modo completamente diverso. Lui chiamava solo due volte al mese e chiedeva soldi. Lo faceva in modo apparentemente discreto, come per ricordarle di non dimenticarsi di inviare i soldi e così via. Ma era evidente che ormai non pensava più a sua moglie e non le mancava. Così Marina iniziò a pensare sempre più spesso a che senso avesse vivere una vita così complicata. In fondo, lei non amava suo marito. Non avevano figli insieme e lavorava solo per mantenere lui e sua madre. Fu allora che Marina decise che avrebbe lavorato ancora qualche mese. Avrebbe risparmiato un po' di soldi e poi sarebbe tornata a casa. Sentiva che stava diventando sempre più difficile, sia fisicamente che moralmente, stare lontano da casa. Vivere in quel dormitorio con persone che erano sempre in competizione e non volevano che qualcun altro avesse successo. Dopo tanti mesi, Marina era veramente esausta. Desiderava tornare a casa, nel suo letto caldo. Sognava le semplici gioie e il sostegno affettuoso. Le ragazze con cui lavorava le chiedevano spesso perché fosse lei a lavorare e non suo marito Michele. Dicevano che si vedeva che Marina non lo amava più. Capivano che lui era a casa, al caldo, praticamente senza lavorare, mentre lei li stava sacrificando la sua salute e la sua giovinezza. Marina, durante tutto questo tempo noi siamo riuscite a tornare a casa e riposarci più volte, mentre tu sei sempre qui. Perché non ti vuoi bene e non ti rispetti? Un giorno le chiese Anastasia, affascinante e dolce collega. Vorrei guadagnare di più per poi. Una volta a casa, iniziare una nuova vita. Sogno di prendere un'altra laurea e di essere semplicemente libera. Forse, se avrò il coraggio, divorzierò da mio marito, se non cambierà affatto, rispose Marina. Beh, è un buon obiettivo, ma ricorda comunque che è importante e necessario riposarsi. Non dovresti distruggerti così tanto. Guardati, sei diventata così magra e pallida, disse l'amica di Marina con affetto e preoccupazione. Marina non lasciava mai denaro per sé. Ogni centesimo che guadagnava lo mandava a casa. Si fidava veramente della sua famiglia. Secondo i suoi calcoli, durante tutto il tempo che aveva lavorato duramente, la sua famiglia avrebbe dovuto già avere una somma considerevole. Finalmente, Marina decise che era giunto il momento di tornare. Decise di portare l'ultimo stipendio personalmente alla sua famiglia. Si congedò dalle sue colleghe, che le volevano bene, e anche da quelle che la invidiavano. In quel periodo si erano tutte molto affezionate l'una all'altra, tanto che non voleva davvero separarsi da loro. Ma c'era una casa e c'erano obiettivi futuri che voleva tanto raggiungere. Marina tornò a casa di ottimo umore. Finalmente poteva godersi la libertà e il sole sopra la testa. Il fatto è che mentre lavorava, aveva avuto modo di vedere soprattutto polpette e zuppe profumate. Non aveva tempo libero per passeggiate o per godersi le cose più semplici. Questo era dovuto al fatto che, oltre al suo lavoro principale, Marina accettava sempre anche incarichi extra. Tanto desiderava guadagnare bene e andarsene, che non avvertì né suo marito né la suocera che sarebbe tornata quel giorno. Sembrava che l'aspettassero sempre e che sarebbero stati molto felici di vederla. Certo, si preoccupava un po' del fatto che suo marito la stesse dimenticando e chiamasse raramente. Ma lo attribuiva al fatto che forse avesse più lavoro o che sua madre avesse bisogno di più cure. Pensava che, una volta arrivata, tutto sarebbe andato bene. Mentre tornava a casa, Marina si sentiva più calma e rilassata. Non le sembrava più necessario divorziare da suo marito. Anzi, pensava che fosse il momento di rafforzare la famiglia e di pensare a un figlio. Con questi pensieri positivi e gentili, Marina si dirigeva verso casa. Quando arrivò nel suo paese, notò i vicini che la guardavano con grande sorpresa e un po' di agitazione. All'inizio non capiva cosa fosse successo durante la sua assenza e cosa fosse cambiato. Avvicinandosi a casa, incontrò la nonna Maria, con cui aveva sempre avuto un buon rapporto. La nonna disse a Marina di non preoccuparsi troppo e di rimanere calma e forte, qualunque cosa fosse accaduta. La ragazza non riusciva a capire di cosa stesse parlando la vecchietta. Iniziò a pensare che qualcuno della sua famiglia potesse stare male. O che, durante la sua assenza, qualcuno fosse venuto a mancare e che non avessero voluto darle la notizia per non farla soffrire. Questi pensieri le impedivano di arrivare a casa tranquillamente. Marina entrò in casa lentamente e con cautela, cercando di non disturbare nessuno, visto che non aveva avvertito del suo arrivo. Quando entrò, vide una scena che la lasciò in stato di shock. In cucina c'erano tre persone, suo marito, sua suocera e una giovane ragazza attraente. Non solo, quella ragazza era seduta sulle ginocchia di Michele, lo baciava e lo abbracciava. Quando la ragazza si alzò, Marina vide che era incinta, in attesa di un bambino. Quella era una notizia che non avrebbe mai potuto immaginare. Quando Michele vide Marina, rimase senza parole per qualche minuto. Non si aspettava che la loro sostentatrice tornasse così presto. Pensava che sarebbe rimasta a lavorare fino alla nascita del bambino. Il fatto che Marina fosse tornata così presto lo colse di sorpresa. In realtà, Michele non cercò nemmeno di giustificarsi o scusarsi troppo. La portò semplicemente in un'altra stanza per parlare in privato. A quanto pare, secondo Michele, era colpa di Marina se era stata via così a lungo e così lontano. Sì, durante quel periodo, Michele aveva conosciuto una giovane ragazza. Avevano iniziato una breve relazione. All'inizio non pensavano a nulla di serio, ma poi si scoprì che Anna era incinta. In quel momento, Michele fu addirittura felice che ci sarebbe stata una continuazione della famiglia. Lui e Anna avevano persino deciso che lei avrebbe tenuto il bambino e che lo avrebbe lasciato crescere nella loro famiglia. Anna non aveva intenzione di restare con Michele. Era una persona vivace, brillante e interessante. Voleva crescere, progredire e studiare. Ma Michele le propose una somma di denaro per portare avanti la gravidanza e poi rinunciare al bambino in favore del padre. Avevano ideato questo piano. Ogni mese, quando Marina inviava i soldi, una parte veniva spesa da sua suocera e suo marito per loro stessi e per le medicine, mentre una parte sostanziale andava ad Anna. Ormai mancava poco da pagare, solo un paio di mesi per estinguere il debito e ottenere il tanto atteso bambino. Marina non si sarebbe mai aspettata una situazione del genere. Certo, aveva sentito parlare di cose simili, di persone che per soldi portano a termine una gravidanza e poi cedono i figli. Ma pensava che fosse qualcosa che si vede solo nei film, non nella vita reale. Non sapeva come affrontare tutto questo e cosa avrebbe fatto. Voleva divorziare, ma pensava anche che il bambino, innocente in tutto questo, non dovesse essere punito. Una volta chiarita la situazione, chiamarono Anna per parlarne. La giovane ragazza disse che non avrebbe consegnato loro il bambino se non avessero pagato il saldo residuo. Per quanto piccolo, se non avesse ricevuto il denaro in tempo, avrebbe comunque portato a termine la gravidanza, ma avrebbe venduto il bambino a un'altra famiglia bisognosa. Insomma, la giovane, apparentemente attraente, si rivelò crudele e opportunista. Non si preoccupava delle conseguenze, di agire contro la legge e del fatto che avrebbe dovuto essere punita per questo. Marina capiva che nessuno voleva quel bambino e che nessuno lo avrebbe aiutato. Michele, ovviamente, aspettava il bambino, ma non voleva fare nulla di concreto per tenerlo. Addirittura si era licenziato dal lavoro per godersi il momento, aspettando il bambino senza preoccuparsi delle conseguenze. Marina all'inizio era sconvolta. Non sapeva come calmarsi. Non avrebbe mai immaginato una storia del genere. Pensava che una cosa del genere non potesse mai accaderle. Era tutto così terribile e surreale, ma sapeva che doveva fare qualcosa subito. Decise che, ad ogni costo, avrebbe preso quel bambino. Dopotutto, era con i suoi soldi che si era pagata la gravidanza. Marina disse che sarebbe tornata a lavorare a turno, avrebbe guadagnato i soldi mancanti e poi avrebbe preso il bambino con sé. Nel frattempo, chiese che tutti preparassero i documenti affinché il processo di rinuncia e tutte le azioni successive fossero, per quanto possibile, legali e trasparenti. Anche se era evidente che tutta la situazione fosse completamente illegale. Tra tutti i membri della famiglia, solo la suocera rideva e si divertiva per quello che stava succedendo. Le piaceva l'intrigo e la complessità della situazione in cui si trovavano suo figlio e la nuora, ma non pensava alle conseguenze. Marina, però, aveva già deciso fermamente che, una volta tornata, avrebbe lasciato quella famiglia e sarebbe andata a vivere la sua vita. Ma nessuno ci credeva. Tutti pensavano che Marina stesse agendo come una donna piccola e sfortunata, che non avesse altre opzioni. Ma dentro di lei, in quella sua anima apparentemente dolce, ma allo stesso tempo forte, stavano avvenendo cambiamenti significativi. Capiva che tutto si sarebbe sistemato e che le cose sarebbero andate come aveva deciso. Sentiva che stava iniziando una nuova fase della sua vita, e che doveva prepararsi bene e a fondo. In realtà, nessuno intorno a Marina riusciva a capire perché stesse agendo in quel modo. Perché le serviva un bambino che non era suo? Tutti iniziarono a scoraggiarla continuamente e con insistenza. Ridevano e scherzavano su di lei. Come avrebbe vissuto? Davvero non avrebbe lasciato Michele? E se lo avesse lasciato, come avrebbe fatto a vivere con il peso di un neonato? In quei mesi, Marina dovette ascoltare di tutto. A un certo punto, si sentiva incredibilmente pesante nel cuore. Continuava a pensare e analizzare perché Michele le avesse fatto una cosa del genere e come avrebbe potuto rimediare. Rideva di se stessa. Come aveva potuto essere così ingenua e sfortunata, fidandosi completamente dei suoi familiari? Aveva inviato tutti i soldi fino all'ultimo centesimo. Avrebbe dovuto pensare prima al proprio benessere e non fidarsi così tanto della sua famiglia. Ma era fatta così. Credeva che solo con l'aiuto reciproco si potesse raggiungere la vera felicità. Proprio per questo motivo aiutava la suocera e suo marito. Marina tornò a lavorare come cuoca, perché i soldi per il futuro bambino non erano sufficienti. Capiva che non avrebbe più potuto fidarsi di nessuno. E faceva bene, perché ora tutti i suoi pensieri e sogni erano legati solo al bambino che doveva nascere. Marina fece esattamente come aveva pianificato. Dopo alcuni mesi, tornò con la somma di denaro necessaria. Tutti la aspettavano con impazienza. Temevano che, in qualche momento, Marina potesse cambiare idea e rinunciare al suo proposito. Naturalmente, sarebbe potuto accadere, dato che ufficialmente non avevano firmato alcun contratto. Ma Marina aveva già deciso come sarebbe stata la sua vita in futuro. Quindi Anna si preoccupava inutilmente. Anche Michele era preoccupato. Se Marina lo avesse lasciato, avrebbe dovuto cercare un lavoro, perché tutti i soldi di Marina erano stati completamente spesi. Finalmente avvenne il miracolo che tutti aspettavano. Anna partorì un adorabile, bel bambino. Era un piccolo gigante, affascinante e robusto. Ma la più felice di tutti, ovviamente, era Marina. Capiva che ora non era più sola e che aveva qualcuno per cui vivere e gioire. Anna ricevette i soldi. Tutto venne fatto legalmente. Poi Marina decise di divorziare da Michele, lasciando così suo marito, ormai ex, e la suocera. Chiamò il bambino Oleg, perché per lei quel nome era il più caro e dolce. Inizialmente, Marina decise di vivere per un po' a casa di sua madre, che era felice di accoglierla. Aveva bisogno di un po' di tempo per far crescere e rafforzare il bambino. Era bello e confortante che Marina avesse un piano tutto suo. In quel periodo, si può dire che cominciò a vivere una vita normale e attiva. Iniziò a fare progetti, a fissare diversi obiettivi e a pensare esclusivamente in modo positivo. Le cose nella sua vita cominciarono a sistemarsi gradualmente. Un giorno, mentre passeggiava per la città con il suo amato bambino, incontrò per caso un suo vecchio conoscente, il suo ex amore, Oleg. Lui rimase, per così dire, un po' sorpreso nel vedere Marina passeggiare con un bambino. Ma capiva che lei ora aveva la sua vita adulta e ne aveva tutto il diritto. Non sapeva come avvicinarsi a lei, dopo tutto il male che le aveva fatto. Ma alla fine l'attrazione per la persona amata prevalse su tutte le sue paure costanti. Tanto più adesso, poiché nella vita di Oleg c'era una nuova realtà completamente diversa. Cos'è cambiato nella vita di Oleg? Ecco cosa è successo. Sua moglie, una donna forte, autoritaria, ma allo stesso tempo piuttosto volubile. Durante uno dei suoi soliti viaggi incontrò un giovane uomo. All'inizio, come spesso accade, non pensava di fare grandi progetti con lui. Ma poi la situazione prese una piega inaspettata. Inoltre, questo giovane era di circa dieci anni più giovane di lei. E a lei mancava qualcosa di nuovo e affascinante nella sua vita. Certo, Oleg non le era indifferente. Era sempre stato attraente per lei e lo desiderava. Ma ora era entrata nella sua vita una persona nuova, forte e interessante. Alla fine, si gettò tra le sue braccia robuste. Era un'esperienza emozionante e travolgente. Col passare del tempo, la moglie di Oleg decise che era giunto il momento di essere onesta e di chiedergli il divorzio. Questo era dovuto al fatto che Rudolf, il giovane, l'aveva invitata a seguirlo all'estero e le aveva chiesto di sposarlo. Il loro rapporto era diventato molto serio. In qualche modo, Oleg ebbe fortuna. Sua moglie, temendo di ferirlo, gli promise una parte del suo business come ricompensa per il fatto che lui aveva lavorato bene nell'azienda, contribuendo a ristabilirla. In effetti, lei si sentiva in colpa nei suoi confronti, ma ora aveva una nuova vita. Con Rudolf, forte e sicuro di sé, non poteva più essere la donna forte, autoritaria e a volte dura che era stata. Rudolf la rese vulnerabile e persino fragile, e questa nuova condizione le piaceva molto. In fondo al cuore, aveva sempre desiderato una vita più tranquilla. Una vita di donna delicata, voleva essere debole e dolce, dedicarsi ai bambini. Ma aveva sempre nascosto questo desiderio dietro la maschera di una donna fatale e dominante. Rudolf, con la sua forza, giovinezza, fascino e tutte le sue qualità positive e degne, riuscì a sciogliere il cuore di quella donna matura. Lei riuscì a fidarsi veramente di lui. Sorprendentemente, la conversazione con Oleg si svolse in modo calmo e positivo. In quel momento, Oleg provò un senso di sollievo e leggerezza nell'anima. Sebbene si fosse sempre comportato bene con sua moglie, non aveva mai smesso di pensare e sognare un'altra donna. Marina non usciva mai dalla sua testa. Pensava e sognava continuamente di poter cambiare tutto. Più volte si era preparato a parlare sinceramente con sua moglie, ma lei era sempre occupata, immersa completamente nella sua nuova storia d'amore. Continuava a dire che avrebbero parlato, ma sempre un po' più tardi. Così alla fine il giovane Oleg divenne completamente libero. Ovviamente, subito dopo quella notizia sorprendente e unica, iniziò a cercare il suo amore. Ma poiché Marina in quel periodo era al lavoro, fisicamente non riusciva a trovarla. Il tempo passò, e ora la vedeva con i suoi occhi per strada, con una carrozzina. Quanto fu felice di rivederla. Tuttavia, all'inizio Marina non voleva parlare con lui. Le faceva ancora male pensare a come si era comportato con lei. Era disposta a perdonare, ma non un inganno e un tradimento del genere. Ma nonostante il suo forte risentimento, alla fine decise di dargli una possibilità di essere ascoltato. Capì che Oleg voleva dirle qualcosa di importante e che non l'avrebbe lasciata in pace finché non si fosse espresso. Aveva ragione. Oleg era molto determinato e non aveva intenzione di andarsene. Era sincero e felice. Le raccontò che finalmente aveva lasciato la sua moglie autoritaria, che ora era completamente libero e che tutto andava bene. Quel giorno, Marina ascoltò Oleg senza dire nulla e se ne andò in silenzio. Quando tornò a casa, cominciò ad analizzare la sua vita e quella di lui. Da un lato, non riusciva a perdonarlo, ma dall'altro capiva che senza di lui le cose non andavano comunque bene. Decise allora di dargli una piccola possibilità di rimediare e migliorare le cose. E così accadde. Oleg tornò dalla sua amata il giorno successivo. Questa volta Marina non lo cacciò né rifiutò di parlare con lui. Condivise la sua storia con Oleg, che capì perfettamente e sostenne la sua amata. Le propose di sposarlo e di diventare il padre del suo adorabile bambino. Era certo che con lei e con la loro nuova famiglia sarebbe stato felice. Marina, ormai stanca dei continui tradimenti e delusioni, desiderava solo tranquillità e un po' di felicità. Decise di fidarsi di Oleg e col tempo si rivelò una buona scelta, poiché Oleg si dimostrò sincero nelle sue attenzioni. La aiutava e si prendeva cura di lei. Pochi mesi dopo si sposarono. Non ci fu un matrimonio sfarzoso, ma erano felici. Poi, dopo un po' di tempo, accadde l'evento più bello nella loro nuova vita familiare. Marina annunciò che di recente era stata dal medico e lui aveva confermato la sua gravidanza. La loro famiglia stava per crescere ancora. Oleg era al settimo cielo. Saltava di gioia, perché sognava da tempo un altro bambino. Tutto andava per il meglio. Sembrava che si fossero meritati quella vita tranquilla e serena, piena di armonia. Marina divenne ancora più premurosa e affettuosa, mentre Oleg assunse un atteggiamento più responsabile e forte. Ora sapeva che doveva lavorare di più e amare la sua famiglia. Non avrebbe mai potuto perdonarsi se, per una sua sciocchezza, avesse perso le persone a lui più care e che gli davano tanta gioia. È meraviglioso quando le storie difficili si concludono con qualcosa di buono e positivo. La nascita di una nuova vita è il dono più bello. È il dono più bello.